L'effetto Shia? Basta lo vedi quella tu Lo vedo, no? C'è l'effetto Shia? Ma non mi sembra E' solo... Intermission Possibile E che cacchio adesso? Boh, vabbè, metti C'è il Delfino Io l'effetto Shia non lo vedo Per adesso Ma non lo so Ok, adesso poi mettiamo... Win In una finestreta da qua Facciamo roba, guarda Non c'è E' solo... Intermission Sua stessa... Boh E' buggato, forse Vabbè che quello è volato, è vecchio Ragazzi, confermate che si vede bene Vabbè che quello è volato, è vecchio, c'è la nuova propria Come si muove, eh? No, sembra il Delfino No, sembra il Delfino E' bene No, sembra il Delfino No, sembra il Delfino Ed ecco a voi, vuoi presto Ma c'era pure... Scusa, se c'è uno Ehm... Dove lo stavo vedendo? Ehm... Ehm... C'è uno che avevo segnato tra quelli divertenti a molti giorni Ah, buono... Sto già diverso Sto sbagliato... Scrivetevi al palazzo, vabbè praticamente pure il carico, si è 3d, pure 3d, ok, ho cambiato visuale, si sono andato giù, adesso riesco a colpire meglio il muro. Ma che cosa sto combinando, che cosa sto combinando? Potrei che non so neanche i tasti, c'è scritto massima potenza che però non sapevo sprigionarla però. I rumori bianchi, Capcom contro Marvel, si ci farei una partita. Sì, però Buket dice che vuole vedere, ah adesso viene trattato il filo pugnoso. Il mare lo possiamo vedere solo così, dai. Ma sei, sei, tu ti hai scelto? Sì. E non hai cambiato? No. Sono tornato indietro e poi si la vede per questo. E vabbè, è bella questa. No, fino a non riuscivo a cambiare, vanno a vedere in tutto. Sono riuscito a fare, hai visto? Ok. Segui la Mercedes. No, ok. E non abbiamo la stessa testata. Sì. Perché cambiare una cosa che è bella? Perché cambiare una cosa che è bella? Max power! Tu avrei capito che si sfiggiona la massima potenza. Ma penso in qualche tasso che non hai inserito. Inseghi tutti. Sì. Allora perché sono andato a finire l'altra? No problem. Allora perché non dobbiamo mettere le putte per giocare la gatticcia? Mettere? Dobbiamo metterle? Non si vanno per me. Spigione Max power. Abbiamo passato i settaggi del... I due besti settaggi di... Che sono sbagliati. Praticamente. Come si sfiggiona Max power? Ecco. Mi sono insabbiato. Mi sono insabbiato. Ok. Ok. Non lo schiacciare il putte. Non lo manchiamo due putte. E niente. Ma dopo che cosa troviamo... Cosa avevo detto? Ho vinto. Bravo. Vabbè. Carino. Dice Tarkon vs Mumble. Mamma mia, non lo stavano anche in atto e piatta come cosa... Non hai visto le pisse rotturne e il lago? Spettracolo. Facciamo questo senere... Eh ma ci stanno chiedendo di parlare del nazio. Ma non è che...